E non è visto ancora niente Pure, pure, pure Milioni di serrature Non riescono a tenermi chiuso il cuore Pure, pure, pure Milioni di serrature Non riescono a tenermi chiuso il cuore Ciao, andiamo a svegliare la piccolina mia La piccolina mia Che ha fatto cacchina per tutto Adesso puliamo la cacca Amore Che c'è la mamma tua Piliamo tutta la cacchina Aspetta, puliamo bene Eccola la nostra pupettina Ha fatto il sangue Amore di mamma Tutta pulita Il mio aspetto di merda Per restare in tema Non so se avete visto quando ho inquadrato Vabbè, non ho voluto inquadrare di nuovo Perché è sempre cacca Qualcuno si può schifare, giustamente C'era anche del sangue Quindi sto un po' preoccupata La dobbiamo portare da veterinale Questa è la cacchina Amore Che c'è la mia Come c'è la mia Sabicina papita Che c'è la mia È il gioco Che vedi No, non ci danno il bacio in bocca Non ci danno Amore Come ti parlo Ogni mattina e a lui l'orecchio, si fissa con l'orecchio di Max e se lo mangia e poi salta d'appetuto, è contentissima amore, vieni, piccolina la pazza, si fissa sotto alle copette, ma dove vai, vieni, Simona esci dalle copette mela, quella è mela mia, ah, 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 i mochi no, i mochi no e la prima volta è come si fatti aia, aia, aia si fa male basta vieni, 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 vieni dai, vai a vedere vai vai te accompagna vengo pure lì ehi! bravo! 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 che bravo! 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 brava! bravo! adesso vai anche giù vai! amore adesso vieni di nuovo ci hai trovato spicci bella bello giù bello giù a tutto eccola là che passa amore che fai stai diventando bravissima ho compato queste due piantine sono la menta e il rosmarino a parte che va bene il vasetto non è chavile chic lo volevo bianco comunque non so dove metterle consigliatemi un posto dove mettere dentro fuori non so come per non farle seccare o il terrore che si secchino amore questa è il suo cuscinetto poi c'è anche la poltroncina questa qua è bellissima già me l'ha distrutta me la feci vedere anche nell'altro vlog c'aveva questi qua pesi li ha rotti tutti e non si mette mai comunque c'è una coppia amore amore non ti metti mai qua sopra tu amore poi c'è il giochino è vero? e qua ci sono tutti i suoi giochini qua dentro è vero amore? che bella che ci sei brava brava la copertina poi praticamente fuori al balcone abbiamo messo tutte queste qua e così lei sta qua fuori non ha lavorato abbiamo fatto e gioco qua fuori al balcone le piace tantissimo mi sono dato una sistematina e adesso inizio devo subito fare le lavatrici un sacco di lavatrici c'ho questa qua che è bianca ho imparato un po' e poi qua già l'ho riempita da un sacco di giorni solo che qua praticamente ha fatto dei giorni brutti di pioggia quindi non ho potuto farla perché non sapevo dove stella quindi adesso la faccio ci metto anche il delizio sono venuto in mano ma come sei bella amore mamma dove? ma come sei bella amore mamma vieni mamma eccola mille amore mamma bella tua bella bellissima mamma mi ti amati mamma mi ti amati mamma si dolce sei un zucchero e sui cattolini tutte carine carine rossa eccola qua questa amolina mia non si sente bene non mi fa la pappa bionda da veterinare sono troppo troppo veramente troppo preoccupata uff caffettino dolcificato con rubia stevia un mezzo cucchiaino scarso mi piace anche tanto dolce con un pochino di questo di latte di soia un goccino così oddio vedete che anche a voi succede che giornata di merda caffettino al pc sto lavorando perché sto pubblicando come alcuni di voi mi dissero in un altro vlog la notte le monto e la mattina le carico piace vedere sta cosa e quindi adesso lo metto un nuovo video online che come sapete carico un nuovo video ogni giorno o su questo canale o sul mio secondo canale quindi se non vedete un nuovo video su questo canale vuol dire che l'ho pubblicato sul mio secondo canale comunque lo carico sempre un video ogni giorno e gli ultimi video che ho fatto vi sono piaciute davvero tanto a parte il vlog del cagnolino ho fatto la kiss challenge con max e poi il video di presentazione della bimba della piccolina e sul secondo canale invece ho fatto video di acquisti e assaggi con mia sorella troppo troppo divertente e anche una nuova ricetta buonissima sempre sana e leggera quindi andateli a vedere non solo non riesci a saltare tu pure il pupazzetto vuoi portare sal prendi il pupazzetto sal 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 guarda, lascialo, lo rompi, lascialo cattiva, lascialo lascialo, cattivissima lascialo ora ma guarda che sei cattiva, lascialo bravo, non si rompe dai, e guarda ma come devi dormire così dormi tu così dormi tu sì, è morbido oggi carbonara fit il te like io ho fatto il video sul mio secondo canale come è Max questa carbonara una carbonara finta no fit finta sana e leggera però non fa male io la faccio per la tua salute sì ma non si può fare sana e leggera la carbonara se no non si chiama carbonara comunque ragazze andate a vedere il video è buono, non ho pensato chi c'è? guarda come dorme con l'amore mio amore mio chi c'è? come sei profumato che bellissimo bella aia 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 mi fa male la lei vabbè c'è a te ma dai aia aia mi hai due le chiese una me la posso vengare aia 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 basta 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 mi stai facendo male basta 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 mi stai facendo male allora dai 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 aia aia che di ricco al donato aia ti dai male sul naso aia mattia mi dai male sul naso uffa uffa ma mi hai fatto che tocca da ritorno andate che ti c'è fatto a ritorno aia che la strona e hai visto che hai fatto a Babuccio quanto c'ha e tu ti fai fare di morsi in faccia è quello il gioco amore, vedi se il babuccio ci ha fatto male tu sei proprio una strega ha fatto male il babuccio con i dentini affilati ma amore, ora sta mangiando cuscino eh? hai fatto la borsetta? ti piace? vedi cammina, vedi se si sta ahahah oh, guarda la borsetta ci piace? si sta, ma però non la vedo resistente ma quella è una cosa grossissima, un po' più rigida non è per vedere se si sta allora ti piace? si si dove sta? vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua eeeh quello è piccolo ma ce l'ha sempre io li sta facendo sempre stabilendo io li guardo da un dono per vedere attenzione no, quello è piccolo eh Cookey, vieni qua Cookey mi nasconde si nasconde per protezione carina che vuole quel coltivo che ha le grane invece hai visto come la rincorre invece che c'è? molly molly hai visto? c'è il giochino c'è il giochino vieni i giochini vieni i giochini ma che ne sei giochini? cookey lei non ha rincorrere troppo a paura è piccola Cookey vieni che è piccola è un brandy biscottino è un brandy biscottino Cookey 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 lasciala stare dai vieni qua vieni è piccola lei è piccola lei amore sono tantos uomini mi ha ancora struccata e lei sta qua a terra guardate ai miei piedi qua perchè io sono coperta sulle gambe e lei sta qua c'è la faccia è troppo bella tanti pollici in su per questo video per la mia peccolina ci vediamo domani ciao 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 ciao